Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritornati nella mia cucina italiana, oggi andiamo a fare una ricetta da ciuparse lo sdedos, ok? Una di quelle che facevo nel mio ristorante, è una di quelle difficili, bisogna dire la verità, non è facile da realizzare, questa la facevo proprio quando ero qua in Duomo, Milano, ero in Brera, io lavoravo in un ristorantino qua in Brera, un ristorantino in Cacanto, era abbastanza grande, si chiamava Oriente Express, adesso non c'è più, peccato, era in via Fiori Chiari, non so se avete presente, in Brera, Castello Sforzesco, Brera, Piazza del Duomo e poi il resto del mondo, questo è gourmet, è da ristorante importante ed è una ricetta pura, adesso la andrete a vedere, ci sono dei livelli di difficoltà abbastanza seri ma nonostante il caldo io penso di riuscire a farla, un po' di tempo che non la faccio però è veramente molto molto buona, passaggi ci sono, bada bam bada bam bam bam, siete pronti? Sì bene, così almeno facciamo contenti quelli che dicono che fai le cucine anni 80 e adesso andiamo a fare la cucina anni 81. Ci serviranno in totale 2 kg tra lupini, vongole veraci, fasolari e cozze ma vanno bene anche un solo tipo di vongole, o le veraci o i lupini, io i lupini ve li consiglio perché sono decisamente molto più buoni e hanno proprio un sapore e un profumo di mare che fa paura. Ovviamente prima di consumarle vanno fatte spurgare per eliminare i granelli di sabbia e le altre impurità. Per farlo metterle in ammollo con acqua e sale per un totale di 6 ore e ogni 2 ore cambiare l'acqua. Per ogni litro di acqua ci vorranno 25 g di sale. Poi ci servirà uno spicchio d'aglio privato della pellicina e del pinot rosa, in questo caso il pinot rosa rilascerà delle tonalità fantastiche che si legano davvero molto bene con le vongole. Ovviamente la prima fase che andiamo a fare adesso è quella di apertura delle vongole. Questo pinot rosa davvero è molto importante, lo utilizzeremo per tutta la ricetta. Oltre al vino abbiamo bisogno anche di olio extravergine di oliva e un pizzico di pepe. All'interno di una padella dei bordi alti inserire un filo d'olio extravergine di oliva, lo spicchio d'aglio intero senza la pellicina perché abbiamo bisogno che rilascia bene il suo profumo e il pure e inseriamo tutte quante le vongole e anche le cozze. Quindi aggiungere un bel bicchiere di vino, non siate timidi, mettetelo perché comunque è importante. Ah, dimenticavo, quando pulite le cozze mi raccomando eliminate anche il bisso, ovvero quella barbetta. Una bella macinata di pepe nero, mettere dunque il coperchio e far cuocere fino a quando non si saranno aperte e avranno rilasciato tutta la loro acquetta. In questa fase tenete la fiamma bella viva e rigiratele di tanto in tanto per far sì che si aprano tutte. Fra un passaggio e l'altro rimettere il coperchio. Et voilà, sono pronte. Questa acquetta rilasciata dalle vongole è importantissima in quanto darà non solo il sapore al riso ma anche il giusto livello di sapidità. Mettere dunque le vongole all'interno di una bull e filtrarla. Anche se le abbiamo fatte spurgare bene, qualche vongola potrebbe essere morta in precedenza. Questo non vuol dire che non è buona, sentite comunque il profumo, se ha un buon profumo allora è ancora buona. E quella morta con il calore si sarebbe comunque potuta aprire e avrebbe comunque potuto rilasciare della sabbia. Quindi in ogni caso bisogna filtrare questa acquetta di base. Più o meno ho recuperato mezzo litro di acquetta meravigliosa da due chili di vongole e qualche cozza. Questa acquetta non va bene per fare il risotto come fumetto o come brodo perché è molto salata, è molto saporita, è molto concentrata, quindi dobbiamo semplicemente diluirla. In totale noi abbiamo bisogno di un litro esatto, quindi aggiungiamo semplicemente dell'acqua per arrivare a un litro. Travasiamo dunque il tutto all'interno di un pentolino e lo mettiamo sul fuoco e la portiamo ad ebollizione. Intanto sgusciamo le vongole e le cozze, qualcuna magari la lasciamo integra per decorare il piatto, e recuperiamo anche quel pochino di acquetta e lo aggiungiamo al brodino. Quando giunge ad ebollizione spegnere il fuoco e lasciare con il coperchio per mantenere a temperatura. E voilà, passiamo alla preparazione del riso. Abbiamo bisogno di 300 g di riso vialone nano, in alternativa va bene anche il carnaroli. Questi sono i due risi indicati per fare il risotto. Poi uno spicchio d'aglio tagliato semplicemente a metà e privato della pellicina perché abbiamo bisogno del suo sapore. Un pochino di sale, il pinot rosa, un pochino di pepe, qualche fogliolina di basilico, vedete, non tantissime ma qualcuna ci vuole, un paio di filettini di acciughe e circa 30 g di burro. Prima di tutto dobbiamo tostare il riso all'interno del pentolino indicato, quindi quello alto, mettere semplicemente il riso, accendere il fuoco e farlo saltare. In alternativa potete utilizzare anche un cucchiaio di legno. Deve arrivare a circa 50-60 gradi per tostarsi bene. Sentite che rilascia proprio un profumo quasi di pane, quasi di cotto. Ecco, questo è importante perché questa è la giusta e vera tostatura del riso. E si fa senza olio, senza grassi, senza niente. In questa maniera, credetemi, rilascerà dei profumi, dei sapori e soprattutto una consistenza perfetta. Quando risulterà bello profumato, ci vorranno all'incirca 3 minuti, è pronto. Travasiamo momentaneamente il riso all'interno di un piatto e passiamo alla successiva fase di cottura del riso. All'interno dello stesso pentolino aggiungere lo spicchio d'aglio, che abbiamo tagliato a metà e privato della pellicina. Aggiungere anche 10 g di burro e due filettini di alice o acciughine sott'olio. Sicuramente vi domanderete, ma che ci azzeccano le alici con le vongole? Beh, il loro scopo è importantissimo ed è quello di enfatizzare il profumo di mare. Ma non soltanto, anche queste bilanceranno la sapidità. Quando si saranno sciolti i filettini di alice, eliminare lo spicchio d'aglio e aggiungere il riso. Fino a qui tutto facile. Il brodo, ovvero l'acquetta rilasciata dalle vongole e da qualche cozza, è in caldo. Il riso è nel pentolino e le vongole sono sgusciate. Diciamo che siamo in pari. Ora, far assorbire al riso il burro aromatizzato dall'aglio e dalle acciughine. E quando la temperatura sarà omogenea, ci vorrà all'incirca un minutino a fuoco medio, sfumare con un bel bicchiere di vino, far evaporare la parte alcolica e mescolare bene. Quando il vino si sarà assorbito e sarà evaporata la parte alcolica, aggiungere un mestolo e mezzo di brodo. Vi ripeto, il brodo non è nient'altro che l'acquetta rilasciata dalle vongole e allungata con acqua. Quando iniziate la fase di cottura del riso, riaccendete il fuoco sotto il brodo, perché questo deve essere bello caldo. Mescolare bene fino a quando il brodo non sarà assorbito, quindi aggiungere un altro mestolo e mezzo di brodo. E continuare così fino a metà cottura. Giunti a metà cottura, dobbiamo cambiare il metodo di cottura. Fino adesso abbiamo cucinato il riso a fuoco vivo, mescolando continuamente. Ora aggiungere un mestolo di brodo, regolare con un pizzico di sale, mescolare delicatamente, abbassare la fiamma al minimo e mettere il coperchio. Da questo momento in poi non dovremmo più mescolare continuamente il riso e dovremmo continuare la cottura a fuoco basso. Quando il brodo si sarà assorbito, togliere il coperchio, mescolare delicatamente, aggiungere un altro mestolo di brodo, rimescolare delicatamente per distribuire il brodo bene dappertutto, rimettere il coperchio e continuare la cottura e questi passaggi fino a quando non avrete terminato il brodo. La vera e propria difficoltà di questa ricetta non è solo nei due diversi metodi di cottura, ma soprattutto nella giusta quantità di sale da aggiungere. Questo perché la quantità di sale contenuta nell'acqua delle vongole varia sempre, ma posso darvi un suggerimento. Assaggiate sia il brodo che il riso nelle varie fasi di cottura e regolatevi di conseguenza. Et voilà! Il brodo è finito. Ora c'è da prestare attenzione a due fattori. Il primo è il punto di cottura del riso. Se avete fatto tutto bene, mancano esattamente due minuti dal tempo indicato in confezione. Il secondo è la densità della crema. Ecco le soluzioni. Se dovesse risultare poco cremoso, spegnete immediatamente il fuoco, mettete il coperchio e lasciatelo riposare fino ad arrivare a due minuti dal tempo di cottura indicato sulla confezione. Se dovesse invece risultare troppo liquido, alzate la fiamma e mescolate energicamente. Vedrete che nell'arco di 15-20 secondi raggiungerà la giusta densità, ovvero questa. Spegnere dunque il fuoco, aggiungere la restante parte di burro e mantecarlo bene in questa maniera. Vedete che cremositaggine? Guardate che bello, è perfetto. Guardate che meraviglia. E non è il riso all'onda, perché vi renderete conto che con queste fasi di cottura che abbiamo fatto sarà idoneo per essere messo all'interno di un coppapasta e fare quelle formine belle carine. Per chiudere aggiungere le vongole e le cozze sgusciate. Mescolare bene per distribuire bene il tutto. Qualche fogliorina di basilico rigorosamente spezzettata a mano. Ed infine le cozze e le vongole quenne con il guscio per decorare il piatto. Quindi mettere il coperchio e far riposare 5 minuti prima di andare ad impiattare. In questa maniera tutti gli aromi, tutti i sapori, tutti i profumi si andranno ad armonizzare e il riso raggiungerà la sua giusta consistenza. Buon Natale ovviamente! Ed è verrà! È spettacolà! È spettacolà! Vabbè, ragazzi ve l'ho detto, non è proprio facile facile da realizzare. Adesso aspettiamo un attimino che si va a depositare bene e che tutti quanti i sapori si vanno ad armonizzare e poi andiamo a fare l'imbiattamento e poi andiamo a fare la prova dell'assaggio. E con la scusa vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici e di mettere un bel mi piace che per me è molto molto importante. E poi, ovviamente vi ricordo che in composit internet trovate quando le mie video ricette. Ok, va bene. Andiamo a impiattare? Sì, perché tu hai fame? Sì! Anch'io! E poi il profumino, cioè io già non aguanto. Già non aguanto! Andiamo a impiattare e andiamo a fare la prova dell'assaggio. Per chiudere il piatto con questo strumento tecnologico di altissima tecnologia industriale andare a ricavare un pochino della scorzetta del limone. Guardate, è fantastico. Poi mettiamo qualche fogliolina di basilico, così intera, perché ci sta proprio bene 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 bene. Ed infine un pochino di pepe al gusto. Et voilà! Le gè sono fatti! Perché non si dice fatto, si dice fatti. Io vissi, visto che abbiamo fatto un piatto gourmet, io so già che riuscirà a tre persone su cento, mila, milioni, facciamo la prova dell'assaggio. No dai ragazzi, si può fare, si può fare. Questi sono piattini buoni. La mia domanda è, sarà buono o non sarà buono, ovvero, non lo so. Vieni qua, vieni qua, dove va? Vieni qua. Fagli vedere la corpositaggine, la densitaggine, il corposo. Eh vabbè. Vabbè, ok, sono buone queste cose. Solo che sono un pochino più difficili da fare, perché se sbagliate la dose poi... Ok, buono. Ma in casa è buono. È buonissimo, lo dovete fare. Almeno ci dovete provare. So che non è facile. Oggi ho voluto alzare l'asticella. Vieni qua, vediamo con il pezzettino della scorzettina del limone, la cozza. Acqua. Mamma mia. No vabbè, è basilico, l'acqua di basilico è fioventemente intera. Vieni qua, vieni qua. Ma che cosa non è? No vabbè, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, apri la bocca. Apri la bocca, non fare schieneggiate. No, apri. Se l'hai sbranato. E io mi spreso resa. Che buono. Ma cosa te lo dico a fare? Vieni qua, facciamo un brindisi. Dai, adesso, la prossima volta, fatelo. Facciamo così, facciamo un gioco. Vieni qua, stai qua. Ma il piatto non lo mangio io, è inutile. Tu concentrivi per i brevi. Allora, facciamo una cosa, fatelo o fate qualunque altra ricetta e poi su Instagram fate la foto e taggatemi e mettete l'hashtag chef barbato. Chef Stefano Barbato, chef no, vabbè, chef barbato. Questo qui, quello che vi ho scritto qua che poi mi è venuto così, proprio, potevo mettere anche unhashtag, è assurdo. Non lo so. Va bene, dai, vieni qua che volevo salutare proprio... Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Alla prossima video ricetta ricchiera. Ciao. Ciao.